Continuano le incursioni degli orsi nei centri abitati della Valle Peligna. Un altro esemplare è stato visto a spasso per Campo di Giove. Sono già diverse volte che abbiamo avuto la presenza dell'orso in paese, raccontano i residenti che postano sui social network le foto. Anche qualche settimana fa è stato avvistato nella stessa località, ma in via del lago, dove non ha creato danni rilevanti. Per la sicurezza di tutti noi cittadini, chiediamo che il parco si faccia carico della questione e inizia a monitorare per bene gli esemplari, in modo da scongiurare il peggio sia per l'orso che per il cittadino stesso. Nei giorni scorsi immortalare il plantigrato sulla rete sociale di Facebook sono stati alcuni giovani. L'orso aveva raggiunto il centro di Villa Lago. Nel fine settimana un'incursione si è registrata anche in località San Germano, nel territorio comunale di Pacentro, dove l'animale avrebbe divorato un vitello. Sul posto sono intervenuti il personale della ASL e il corpo forestale dello Stato di Pacentro.